buonasera velocemente ringrazio iuris per averci avvisato sono cominciate le lavorazioni da qualche minuto lavorazione di metà mese quindi chi era in attesa controlli se nel suo fascicolo rdc compare la scritta in lavorazione esito poi si tratterà di aspettare qualche ora per avere l'esito e poi limiti di disposizione a poste mi preoccupa soprattutto chi era passato da sospesa d'accolta quindi dovrebbe trovare la lavorazione chi ha fatto la domanda di rinnovo e appunto deve verificare se la sua pratica è ripartita perché l'inps non avvisa più quindi fatemi sapere sotto questo mini video domani comunque vi daremo la data di misura di disposizione a poste sarà quasi sicuramente 15 intanto vi auguro una buona serata e vi ringrazio ancora tutti ciao